Circolazione in tilt questa mattina sulla tangenziale di Bari dopo l'incidente che intorno alle 6.30 ha visto coinvolto un tir che viaggiava in direzione sud. Poco dopo i curvoni delle uscite di Palese, l'autista del mezzo pesante, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo finendo contro le protezioni laterali della carreggiata. L'uomo è rimasto fortunatamente illeso, ripercussioni pesanti invece sul traffico, lunghe code si sono formate a partire dal luogo dell'incidente fino all'uscita di Giovinazzo Sud. Incolonamenti si sono registrati anche nell'altra direzione a causa dei curiosi che rallentavano in prossimità del luogo dell'impatto per sbirciare tra i rottami. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli uomini dell'ANAS per ripristinare le protezioni andate distrutte nell'impatto e gli agenti della polizia stradale che hanno tentato di ridurre i disagi per gli automobilisti rimasti per ore incolonnati.